prosegue questo australian open prosegue con gli ottavi di finale che si sono chiuse nella giornata di oggi sia al femminile sia al maschile al maschile continuano comunque questi percorsi abbastanza imprevisti magari prima del torneo a parte quello di novak jokovic che quello è l'unico che prosegue bello liscio novak jokovic che ha lasciato cinque game al povero alex de minora assolutamente impotente di fronte alla prestazione del serbo e de minora ragazzi ma che cosa si inventa per fare il punto che cosa si inventa il buon de minora per fare il punto a jokovic con tutto il rispetto è assolutamente qualcosa di molto difficile ecco per l'australiano contrastare nello scambio al serbo perché non ha un colpo vincente non ha assolutamente una pesantezza di palla all'altezza e di conseguenza sono emersi tutti i limiti poi che l'australiano riesce magnificamente a mascherare contro gli altri avversari con una fase difensiva con una corsa con un'intensità pazzesca però assolutamente il fatto che jokovic abbia comunque il match up ecco fra fra jokovic e de minora è assolutamente favorevole al serbo proprio perché jokovic fa tutto bene rimane nello scambio anche per tre ore e di minora non ha nessun colpo per fargli male ed è qualcosa che potrebbe succedere anche se in minor misura magari nell'eventuale semifinale contro tommy paul per questo ci auguriamo tutti che in semifinale ci vada invece il nostro cavallo di battaglia il buon ben shelton che ancora va avanti ai quarti di minora la seconda partecipazione slam che questo slam non doveva peraltro esserci per per via di ranking ma doveva esserci via wildcard e poi è stato talmente bravo da vincere tre challenge alla fine anno da entrare nei primi centri da entrerci di diritto nel main draw di questo australian open ha sfruttato un tabellone favorevole sì però oggi ha vinto una partita veramente tosta ed è stato veramente molto molto bravo perché jeffrey john wolf jj per per tutti ha giocato veramente una grandissima partita ha servito molto bene ha spinto tantissimo col dritto nonostante a volte se lo sia perso ha giocato una partita molto aggressiva wolf ha messo in difficoltà shelton in risposta mentre scelton in 5 7 non ha mai perso il servizio ha concesso due palle break due palle break in 5 7 ha concesso nonostante poi in qualche game wolf qualche occasione in più se la potesse procurare ma la cosa che mi è piaciuta di più di questa ragazza è primo ottavo di finale slam comunque la puoi sentire la tensione l'emozione il fatto comunque di giocare sulla john kane arena su un campo più importante da poi sentire anche la tensione dell'occasione perché comunque giochi contro tommy paul giochi contro jeffrey john wolf che contro jj wolf non giochi contro diciamo un cannibale non giochi contro un gioco vicino zizi pass per intendersi ecco giochi contro un avversario con cui puoi far partita shelton dopo aver perso il primo set maniera piuttosto amara perché nel primo set davvero shelton aveva avuto una palla brecca aveva avuto qualche chance in più anche all'interno dei game rispetto a wolf nel tie perché sembrava essere quello comunque favorito visto il modo in cui li aveva vinti anche nel resto del del torneo oggi ne ha vinti uno su tre però quello fondamentale che c'era da vincere l'ha vinto e nel tie perché il primo gli è sfuggito con quella volé di dritto dopo essersi costruito molto bene il punto ha perso il primo set che cosa è successo niente lui si è rimesso di a giocare come se niente fosse per questo a vent'anni seconda partecipazione slam prime partite che gioca nel circuito a questi livelli lui si rimette lì dopo aver perso un primo set che è girato veramente per un punto per un per un piccolo episodio si è rimesso lì testa bassa tranquillo ha giocato ha giocato il resto del secondo set bene anche lì ha perso il terzo per per un punto si è rimesso lì ha vinto ha vinto il quarto e poi al quinto ha dominato anche con un problemino alla coscia per per wolf che oggi ha giocato anche piuttosto bene perché comunque nello scambio si è mosso molto bene però le armi che ha scelto la potenza quel dritto con cui fa le buche per terra con cui può variare con cui può difendersi il rovescio che comunque gli ha dato punti e di solito il colpo che maggiormente lo tradisce è veramente un giocatore che ancora è acerbo per certi versi ancora soprattutto magari nella risposta al servizio potrebbe fare qualcosa in più potrebbe un pochino più avvicinarsi al campo può migliorare ancora negli spostamenti nel anche se è normale che che un pochino sia impacciato essendo altri 93 però ragazzi c'è questo è il numero 43 del mondo quando l'anno scorso di questi tempi era numero 560 di cosa stiamo parlando stiamo parlando veramente di una roba incredibile come come io vi avevo detto siamo stati gli unici in italia e forse nel mondo a parlarne ad agosto di beh ma chi parlava ad agosto di ben scelta chi parlava ad agosto di ben scelta andare a rivedere il video di agosto su ben scelta che ad agosto nessuno nessuno chi se ne fregava di ben scelta chi lo conosceva in italia e nel mondo ben scelta e scelta quindi si conquista questi ottavi questi quarti di finale ci sarà tommy paul che ha giocato una buona partita oggi contro bautista tommy paul che come sempre un giocatore che che riesco a leggere con fatica perché ha giocato un primo set magnifico ha avuto un crollo fra la fine del primo set e tutto il secondo set poi ha vinto bene il terzo set quarto set tirato alla fine lo vince lo vince comunque lui però rispetto ad oggi se vuole vincere con scelta non deve essere più aggressivo ai punti se li deve andare a prendere perché oggi è rimasto in molto in rimessa e se bautista aguta non ha il colpo vincente non ha il colpo risolutore con scelta se li lasci l'iniziativa sono guai e quindi mi aspetto un pollo un pochino più vicino alla riga più più aggressivo nella partita contro contro tommy paul sarà una partita molto interessante da vedere comunque oggi il derby americano secondo me sheldon wolf è stata la partita più bella perché poi jokovic de minore non c'è stata partita rublev rune nonostante poi sia finita in quella maniera thriller non è stata una bella partita rublev rune è stata una partita ricchissima di errori da entrambe le parti ho visto un rune molto frettoloso soprattutto a inizio partita un rune che sembrava voler spaccare la palla a tutti i punti e voler fare il vincente a tutti i punti quando invece quando risponde alla seconda non c'è bisogno di trovare il vincente ma si può anche impostare lo scambio lo puoi comandare e poi aspettare la palla giusta per tirare il vincente e rune ancora questa questa questo atteggiamento focoso questo atteggiamento impaziente questa energia che 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 gli esce da tutti i poveri alla fine certe volte non riesce neanche a gestirla e oggi non è riuscita a gestirla proprio quando doveva chiudere il match accusato un po di tensione e soprattutto rispetto ad altri momenti del match in cui è stato frettoloso quando il match lo doveva chiudere invece ha scappato indietro e ha perso un po quel coraggio che che invece ha avuto che invece ha avuto in maniera anche troppo eccessiva nelle altre parti del match quindi un po di controllo cioè a volte anche una palla una palla interlocutoria una palla una palla magari meno in spinta ci può stare e quando ti devi prendere il match te lo sai che a questi livelli invece te lo devi prendere il match lo devi prendere e nessuno te lo regala è un po il discorso che abbiamo fatto poi per certi versi nei primi due set ieri per per sinner che secondo me è stato un pochino troppo remissivo un po troppo indietro subendo troppo il gioco di cc pass a questi livelli la partita non te la regala nessuno o te la vai a prendere tu con il tuo carattere con il tuo gioco facendo gioco oppure non te la regala nessuno e infatti rune sperava che la partita le regalasse rublev e rublev è stato bravo rublev è stato molto bravo perché poi veramente oggi ha giocato una partita da un rublev diverso comunque da un rublev più maturo evidentemente perché una partita così rublev non l'ha mai vinta in carriera si può essere accomunata la vittoria al master con con medvede ma è diversa perché poi era sotto 2-5 nel quinto ha annullato quei due match point prendendosi un rischio soprattutto sul secondo e venendo aiutato dal servizio ma soprattutto era sotto 5-0 il super time perché lui è rimasto sempre tranquillo invece in altre partite gli sarebbe esploso il cervello avrebbe perso la pazienza e avrebbe cominciato a sbagliare a regalare invece sul 5-0 sotto è rimasto con la consapevolezza di dire ok sto calmo cerco di salvare il salvabile di giocare punto dopo punto e vediamo che succede ha giocato davvero top 10 oggi rublev e non da quello che regala e quindi veramente gli va dato atto a rublev di questo miglioramento soprattutto di questa tenuta mentale che ha avuto durante la partita bravo bravo veramente russo ingenuo rune anche se è una lezione che gli farà bene è normale anche perché comunque arrivi a 19 anni e hai giocato ancora poche partite di questo tipo ed è una lezione questa che gli farà molto bene per come proprio ha perso la partita perché l'ha perso veramente di ingenuità e di giovinezza perché è stato superiore nel quinto set e rublev è stato bravo perché una partita così appunto rublev penso di non aver mai vista vincere anche se è stata una partita nel complesso qualitativamente di livello piuttosto basso è scarso un po' deludente per il resto insomma femminile abbiamo visto una sabalenca devastante ed è quello il messaggio più netto che abbiamo avuto l'eliminazione di caroline garzià e a questo punto direi che nella parte di tabellone dove c'erano garzià e benci c'è proprio eliminata da sabalenca penso che sabalenca sia proprio la favorita numero uno per arrivare in finale dall'altra parte vediamo vediamo però penso che una finale credibile possa essere Pegula-Sabalenca fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate una valanga di vi piace al video e condividetevi se vi siete al canale se ancora non l'avete fatto è a questo punto arrivederci là che ci vediamo al prossimo video grazie grazie grazie